Buongiorno, in questo video affronteremo il tema dell'ICF senza entrare nello specifico ma cercando di cogliere quali sono gli elementi essenziali da conoscere per poter lavorare poi con una documentazione su base ICF, quindi per poter lavorare su un profilo di funzionamento su base ICF e su un nuovo PEI in ottica ICF. L'ICF è la classificazione internazionale del funzionamento si basa sul modello biopsicosociale, è bene sapere che in realtà non si tratta di un modello nuovo di questi ultimi anni ma che ha una storia che affonda le sue radici all'inizio della seconda metà del Novecento infatti fu un modello sviluppato da Georg Liebman Engel negli anni Ottanta ma già Engel si rifaceva alla concezione multidimensionale della salute descritta nel 1947. Qual è in sintesi l'idea del modello biopsicosociale? È molto semplice. Per comprendere uno stato di salute o una malattia il medico o l'operatore deve occuparsi non solo dei problemi di funzioni e organi come accade nel modello biomedico ma deve rivolgere l'attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell'individuo fra loro interagenti e in grado di influenzare l'evoluzione della malattia. Ecco dunque che c'è una importante diversità col modello biomedico secondo il quale la malattia è riconducibile semplicemente a variabili biologiche che il medico deve identificare e correggere con interventi terapeutici mirati. Cerchiamo di capire un po' qual è la strutturazione dell'ICF. Abbiamo tre aree fondamentalmente. Abbiamo l'area della condizione fisica della persona, il corpo in sviluppo e i fattori contestuali. Come vedremo queste tre aree si influenzano reciprocamente. Le condizioni fisiche sono le condizioni di salute della persona, quindi il disturbo, la malattia o la dotazione biologica in generale. Le condizioni di salute ovviamente interagiscono con le funzioni e le strutture corporee, sono correlate tra di loro più che interagire, influiscono sull'attività dell'individuo e sulla partecipazione. Su attività e partecipazione ci soffermeremo in seguito per capire meglio di cosa stiamo parlando. Ma con queste tre aree, quindi con funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, interagiscono anche i fattori ambientali e i fattori personali. Fattori ambientali e fattori personali insieme stanno ad indicare quei fattori contestuali che, secondo il modello bio-psico-sociale, interagiscono e determinano l'espressione stessa dell'individuo all'interno della società. Vediamo un po' di definizioni. Questo schema è ripreso dall'ICF. Cosa sono le funzioni corporee? Le funzioni corporee sono quelle funzioni fisiologiche dei sistemi corporei e all'interno di queste funzioni fisiologiche sono comprese anche le funzioni psicologiche. Poi abbiamo le strutture corporee, sono le parti anatomiche del corpo. Su questi due elementi noi non ci soffermeremo tanto, anche perché nel futuro profilo di funzionamento, quello che verrà promosso a livello nazionale, di questi aspetti si occuperà l'equip multidimensionale. Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella struttura del corpo, intesi come una deviazione o una perdita significativa. Veniamo ad attività e partecipazione, che sono due momenti essenziali soprattutto per noi che operiamo all'interno della scuola. L'attività è l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo, quindi una semplicissima definizione. La partecipazione è il coinvolgimento dello stesso individuo in una situazione di vita. Quindi voi capite come l'attività e la partecipazione sono delle aree fondamentali per noi che osserviamo la persona all'interno di un contesto particolare, che è il contesto scuola. Ovviamente l'attività può avere delle limitazioni. Le limitazioni sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. Anche la partecipazione può avere delle restrizioni e non sono altro che i problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nella situazione di vita. i fattori ambientali invece che così tanto interagiscono con la struttura corporea, con il funzionamento corporeo, con le condizioni di salute dell'individuo, costituiscono quegli atteggiamenti, quell'ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. Quindi se noi volessimo un po' tracciare uno schema dell'ICF avremo funzionamento e disabilità. Funzionamento e disabilità avremo da un lato le funzioni e le strutture corporee, come abbiamo già visto. Di questo noi oggi non ci occupiamo. Dall'altro abbiamo attività e partecipazione. Attività e partecipazione si sviluppano poi in due ulteriori concetti fondamentali per noi. Uno è il concetto di capacità e l'altro il concetto di performance. La capacità è capacità di eseguire dei compiti in ambienti standard. La performance invece è l'esecuzione di compiti in ambienti reali. Vediamo meglio nel dettaglio. La capacità è quello che una persona riesce a fare in un ambiente standard senza nessun tipo di aiuto e in qualcosa che la persona possiede di suo. La performance invece è quello che la persona riesce a fare nel suo ambiente abituale che normalmente è adattato affinché lui possa esprimersi al meglio. Oppure può prevedere all'interno delle barriere che non permettano un'adeguata espressione dell'individuo. Quindi capacità, ciò che io ho di mio. Performance è ciò che io riesco a fare, la capacità che riesco ad esprimere in un ambiente che comunque può presentare facilitatori o barriere. Per capire un po' come è strutturato fisicamente l'ICF abbiamo visto che abbiamo quattro aree fondamentali, funzioni corporee, strutture corporee, attività e partecipazioni, fattori ambientali. Le due aree principali su cui noi ci concentreremo sono attività e partecipazione, che avrà una categoria introdotta dalla lettera D, e i fattori ambientali. La categoria sarà introdotta dalla lettera E. Grazie per l'attenzione. Cerchiamo di capire in che modo noi dovremo interfacciarci con questi codici che troveremo all'interno del profilo di funzionamento. Nello specifico, al momento, non ci interessa capire e sapere di quale codice in particolare stiamo parlando, ma come noi dovremmo valutarlo? Ebbene, noi lo valuteremo attraverso una scala numerica. Diciamo che questa scala sostanzialmente si sviluppa dallo 0 al 4. Vediamo che se noi inseriamo uno 0 nella nostra valutazione vuol dire che per quella determinata area il funzionamento non presenta alcun problema. Se noi lo valutiamo con un 1 vuol dire che c'è un problema lieve. Se lo valutiamo con un 2 il problema è in medio. Con un 3 si tratta di un problema grave. Con un 4 è un problema completo. È ovvio che laddove noi diamo una valutazione di 3 o 4 vuol dire che c'è una compromissione del funzionamento che forse deve farci dubitare dell'utilità di un nostro intervento in quell'area. Vediamo un esempio pratico. Quello che vedete è un estratto dell'ICF. È il capitolo 5, cura della propria persona. Gli indicatori che riguarderanno questo capitolo avranno come lettere iniziali la D di domodossola perché è il capitolo e l'area che riguarda attività e partecipazione particolarmente importante per il nostro lavoro a scuola. Quindi laddove troveremo D5 vuol dire che l'indicatore è tratto dal capitolo 5 dell'ICF, cura della propria persona. Come vedete dallo schemino sulla destra? Se al D5 io inserisco un 10 allora l'indicatore generale sarà ulteriormente dettagliato. Vuol dire che mi sto occupando del lavarsi D510. Lo potrete vedere anche dall'estratto dell'ICF. Se al D510 che ha una sua definizione come indicatore generico e soprattutto ha un'inclusione ed esclusione, vuol dire cosa noi possiamo considerare all'interno della definizione principale e cosa invece dobbiamo del tutto escludere. Se aggiungiamo uno 0 all'indicatore generale abbiamo D5100, ulteriormente specificato l'indicatore generale che a questo punto significa lavare parti del corpo. Se al posto dello 0 finale io inserisco un 1 avrò D5101, lavarsi tutto il corpo con relativa definizione. Se al posto dell'1 finale io avessi un 2 a quel punto l'indicatore sarebbe D5102, asciugarsi. Adesso prendiamo uno di questi indicatori, nello specifico nell'esempio trovate D5100, lavare parti del corpo, e vediamo in che modo noi, trovandoci di fronte ad un indicatore di questo tipo all'interno del profilo di funzionamento, possiamo valutarli. Se aggiungiamo uno 0 vuol dire che non troviamo alcuna difficoltà nel lavare parti del corpo da parte del nostro alunno. Se aggiungiamo un 1 vuol dire che la difficoltà che notiamo è una difficoltà lieve. Con il 2 sarà una difficoltà media, col 3 una difficoltà grave e col 4 sarà una difficoltà completa. È ovvio, come dicevamo prima, che se la nostra valutazione è 3-4 vuol dire che c'è una compromissione pressoché completa del funzionamento e quindi non spenderemo la nostra progettazione in quella direzione. Se la nostra valutazione sarà di 0, 1 o 2, 2 come valore borderline, allora a questo punto forse possiamo pensare che una progettazione educativo didattico in quella direzione può avere un suo significato e un suo perché. Come possiamo tradurre in ICF quindi le nostre osservazioni e la nostra programmazione? Perché questo è il vero tema. Tanto per cominciare dobbiamo dotarci di una buona griglia di osservazione. La griglia di osservazione è fondamentale perché l'osservazione non può essere di tipo casuale deve essere guidata. Quindi dobbiamo dotarci di strumenti che ci permettano un'osservazione di tipo sistematico. Ecco dunque che già a partire dal 2016 con i referenti dell'ambito ci siamo premurati di strutturare una griglia estremamente completa, non complessa. Dico completa perché prevede all'interno 217 indicatori. È ovvio che poi nel momento in cui noi andremo ad utilizzarla analizzeremo quegli indicatori che riteniamo opportuni per il funzionamento dello studente che abbiamo preso in carico. Ecco quindi che se il mio studente ha una disabilità di tipo motorio, ad esempio, e non ha alcun tipo di compromissione nell'area cognitivo neuropsicologica, ecco che tutto il capitolo dell'area cognitivo neuropsicologica non ha necessità di essere compilato e mi limiterò semplicemente all'area motoria. È importante capire che questa griglia di osservazione quindi si divide in aree diverse. Abbiamo l'area cognitivo neuropsicologica, abbiamo l'area affettivo relazionale, abbiamo l'area della comunicazione del linguaggio, l'area sensoriale, l'area motorioprassica e l'area dell'autonomia. Ovviamente si tratta di uno strumento che non dovrà essere consegnato alla scuola né dovrà essere condiviso col genitore. Questo è uno strumento del docente. Pone tutta una serie di domande a cui il docente può dare risposta, o meglio per dar risposta a queste domande forse deve strutturare delle attività che permettano di verificare il funzionamento in questione. Ecco perché è fondamentale. Noi non possiamo strutturare un profilo di funzionamento solo ed esclusivamente attraverso un'osservazione spontanea. Perché voi sapete bene come l'osservazione spontanea è fortemente legata al grado di esperienza e alle conoscenze del docente. Un docente meno esperto avrà sicuramente un minor numero di conoscenze e minore esperienza, quindi farà fatica ad osservare nello specifico alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti, valutare il livello di attenzione, valutare il livello di operatività nelle diverse aree dello studente. Invece un docente più esperto potrebbe, ma non è detto, avere le competenze per crearsi un profilo già soddisfacente attraverso un'osservazione spontanea. In entrambi i casi, a mio avviso, è necessario invece che ci sia uno strumento che permetta un'osservazione sistematica e permetta di, attraverso l'osservazione, strutturare alcune attività che ci consentano di osservare il funzionamento specifico in determinate aree. Quindi la prima parte del nostro lavoro è l'osservazione. Successivamente noi dobbiamo avere un buon modello che ci permetta di strutturare il profilo di funzionamento. Perché il profilo di funzionamento, mi chiederete? Ebbene, è vero, il profilo di funzionamento sarà un documento che poi coinvolgerà al suo interno sia la diagnosi funzionale che il profilo dinamico funzionale. Ad oggi noi non abbiamo un modello nazionale di questo tipo. Forse verrà emanato a breve, ma al momento noi non lo abbiamo. Però già dal 2017 ci viene richiesto di lavorare in UCF. Quindi come ambito abbiamo deciso momentaneamente di sostituire il profilo dinamico funzionale con un profilo di funzionamento che in qualche modo ci permette di avere un quadro propedeutico all'elaborazione del piano educativo individualizzato. Il profilo di funzionamento che abbiamo strutturato sarà oggetto del prossimo video.